Il sindaco è iniziato a smontare le luminarie nell'isola pedonale del Vomero, c'è grande delusione e rabbia da parte dei commercianti. C'è stata una questione che sta seguendo l'assessore Santagata, che è ereditato un provvedimento che era stato fatto precedentemente. C'è stato un problema di coordinamento dei tempi, sono sempre positivo e spero che alla fine si trovi la soluzione che vada bene.